buongiorno se stai vedendo questo video significa che a breve sei pernotata l'esame di teoria per quello vogliamo darti delle informazioni l'esame nello specifico viene fatto presso la motorizzazione di vicenza non prendere paura sarà compito nostro venirti a prendere nell'orario indicato personalmente a te e riportarti a casa l'unica difficoltà è che probabilmente stiamo via tutta la mattina per cui portati per piacere qualcosa da bere e qualcosa da mangiare altra cosa che vogliamo dirti il sistema della motorizzazione ha una sorta di riconoscimento facciale elettronico per cui dalla videocamera del tablet con cui compilerai le tue domande che ti ricordo sono identiche a quelle con cui ti sei addestrato o addestrata in questi mesi sai dobbiamo evitare movimenti veloci della testa per far sì che il sistema ci possa riconoscere senza problemi il risultato ti verrà dato verso le due e mezza tre del pomeriggio della stessa giornata quando il sistema aggiorna i database per quello se stai aspettando poi anche il foglio rosa il foglio rosa viene stampato 24 ore dopo l'esame se vi sei fatto l'esame di venerdì il foglio rosa verrà stampato il lunedì per quello continua a esercitarti senza problemi e ti ricordo che sei iscritto nell'unica autoscuola che in tutte le maniere più veloce possibile spendendo il meno vuole farti prendere la patente per cui continua che ce la fai ciao